Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Catanzaro ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare e personale nei confronti di un 38enne catanzarese. È una drammatica storia di violenze fisiche e vessazioni psicologiche. Secondo l'accusa l'indagato avrebbe maltrattato la compagna isolandola dalla famiglia di origine, minacciandola con espressioni del tipo, quando arrivo a casa ti scuoio come una capra. Ultimo episodio risale a poche settimane fa, quando la donna è stata presa a calci e pugni riportando ferite refertate dai medici dell'ospedale. La donna, stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata così soggiogata dal compagno da presentare denunce contro altre persone. In particolare aveva raccontato alle forze dell'ordine di essere stata abusata da due giovani fratelli minorenni. La ricostruzione dei fatti però non aveva convinto gli investigatori. Uno dei presunti stupratori quella stessa sera era stato visto da diversi testimoni in tutt'altro luogo. Una parente della donna ha deciso di presentare così denuncia e ha raccontato di essere a conoscenza delle violenze che avvenivano nella coppia. È stato così arrestato il 38enne catanzarese con l'accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.